Negli ultimi quattro punti della Sambi sono le mani di Massimo Marconato. Hai salvato un po' la baracca a Venezia e domenica scorsa pure contro il Legnano all'intervento decisivo. No, beh, ci sta, insomma, faccio parte della squadra che va in campo, quindi sto facendo il mio dovere. Diciamo che con Rumignani la difesa è tornata a essere l'elemento cardine, il reparto cardine di questa squadra. Va bene, cioè, per essere una squadra che sta lottando per salvarsi, mi sembra che non abbiamo subito i tantissimi gol. Quindi, cioè, sommando sia quelli che ho subito io, quelli che ho subito anche Ivan, non mi sembra che abbiamo subito tantissimi gol. Quindi, cioè, secondo me magari era più un discorso di equilibri di squadra, non di difesa, eccetera, e basta. Qual è stata la parata più difficile, tra quella di domenica e quella di Venezia? Non lo so. Cioè, sono sempre... L'una perché è venuta al 93esimo, l'altra perché forse nel momento topico del secondo tempo... Le parate difficili sono tutte, cioè, non... Quando si è concentrati fino alla fine, cioè, tutte le parate possono essere facili, tutte le parate possono essere difficili. Insomma, cioè, ci sta, insomma, è una parata uguale, tutte sono uguali. Una delle due, ci sa, è il fatto che dice, porca miseria... Che può essere più importante o meno, non lo so. Non ci pensavo di arrivarci, ci sono arrivato lo stesso. Cioè, viene talmente di istinto che non... Non ti sei neanche meravigliato tu, insomma, personalmente. Cioè, so che magari possono essere importanti per la squadra, però non è che mi devo meravigliare se faccio una parata o no, insomma, questo no, mai. Beh, è normale, ma è normale, ma penso che qualsiasi persona, insomma, penso non solo il Ministro, anche il Presidente, tutti, anche i tifosi, insomma. Cioè, abbiamo vinto una partita, dopo tantissimo tempo qua in casa, ed è giusto magari adesso cercare di portare avanti un po' di risultati, insomma. Anche perché, insomma, hanno trattato le due avversarie? Eh, sono prime, tutte, cioè, stanno là sopra e si lottano e lottano per vincere il campionato. Può accadere di tutto, insomma, possono cadere anche le grandi, non è detta l'unica parola, ci possono stare delle sorprese. E' bello, è come in ogni... no, no, io non ho mai detto una cosa del genere. Cioè, la salvezza si ottiene se si fa qualche colpo. Questo l'ho imparato quando ero andato a Manfredonia, che ero praticamente all'inizio, stavo nelle situazioni, quando mi sono trovato qui a San Benedetto. Abbiamo vinto due o tre partite fuori casa e ci siamo tolti, insomma, quindi dobbiamo fare qualche colpo. Se poi lo facciamo nelle ultime due partite contro le prime in classifica, vabbè. No, cioè, noi dobbiamo guardare solo a noi stessi, cercare di fare più punti possibili, e poi alla fine di questi 180 minuti guardare la classifica. Poi là possiamo fare tutti i vari calcoli, eccetera, insomma. Adesso non ci possiamo permettere, non dobbiamo guardare dove vanno le altre, eccetera. Pensiamo a noi stessi e basta. Io ho paura di nessuno. Cioè, proprio, non mi fa paura nessuna squadra, perché ce la possiamo giocare tranquillamente. Quindi, non... Cioè, se loro hanno fatto un sacco di... non lo so. Boh, cioè, neanche non so quanti gol hanno fatto, non mi interessa neanche. Questa metamorfosi nel giro di due settimane. Prima eravate rassegnati, ora non romignati, penso, ma questo era quello che... Io non... ...che si vedeva, almeno dall'esterno, no? Di una squadra che ormai alla deriva e tra l'altro eravate precipitati all'ultimo posto proprio per questo motivo. Io non mi sono mai rassegnato. Se sono venuto qua a San Benedetto per rassegnarmi a retrocedere, penso proprio di no. Quindi, magari c'è stata la reazione di qualche giocatore che prima non stava facendo benissimo, adesso sta dando un grosso contributo. Però rassegnazione in questa squadra non l'ho mai vista. Partite come quelle con la Prosesto, anche con il Lecco, tutto sommato, erano sinonimo di un qualcosa che non andava più bene. E ora il nuovo mister, in due settimane, ha trasformato questa squadra ed è agli occhi di tutti. Ma secondo me prima... Qualcosa è accaduto? Qualcosa è accaduto, sono accadute tante cose. Secondo me prima magari parlavamo più di cose che centravano poco con il campo. E invece ora parliamo solo di campo. Quindi forse questo è cambiato, ma non niente di più. Io, ripeto, rassegnazione non l'ho mai vista su nessuno. Poi se qualcuno si tirava indietro, io non mi sono accorto. Ma è cambiata la mentalità? Si vede più compattezza in campo, più unione, anche negli allenamenti, l'allegria? Si era già visto subito nel primo giorno in cui era arrivato il mister? Ma questo è il metodo del mister. Come abbiamo... Cioè, sappiamo tutti, il mister è uno che... Fin dal primo minuto l'ha messa nel... Io me ne sono accorto domenica quando lei era appoggiato lì alla parete e stava sentendo con grande interesse quello che diceva Romignani. Ora non dico che lei non faceva altrettanto con il precedente, però si vede che lei ha magari un'attenzione maggiore, credo, con tutta la squadra nei confronti del mister, che magari ha dato degli input diversi rispetto a quello precedente. Ha dato degli input diversi? È normale. È normale, quindi magari ha avuto maggiore attenzione da parte di tutti. Può essere, però rassegnazione, una maggiore concentrazione, questo che prima avevamo e adesso no, secondo me è sbagliato dire così. Perché si va a sminuire magari il lavoro che avevamo fatto prima, eccetera. Senta, sotto l'aspetto mentale, mi sembra che una squadra che si presenta domenica prossima, avendo sul gruppone quattro punti conquistati con due squadre, che sono due dirette concorrenti, mi sembra che sia la condizione migliore per potersi presentare sul campo di una capolista. Perché forse magari questo tipo di partite qui, forse noi le giochiamo meglio rispetto a quelle che magari come domenica scorsa, quando bisogna farle. Secondo me domenica chi ha più da rischiare forse è la propatria rispetto a noi, anche se anche noi ci giochiamo una bella fetta di salvezza. Però chi è chiamata domenica a fare la partita e a vincere a tutti i costi, secondo me è la propatria. È giusto questo tipo di ragionamento oppure no? No, perché se noi perdiamo domenica e il Venezia vince, che succede? Il Legnano magari fa risultato anche il Legnano, siamo di nuovo ultimi, quindi è come se la gioca la propatria la partita, ce la giochiamo anche noi. Noi purtroppo siamo obbligati a fare risultato. Le ultime tre partite noi siamo obbligati a fare più punti possibile, perché il Venezia, anche con gli scontri diretti, è favorito su di noi. Quindi Legnano anche, quindi noi siamo messi peggio contro queste due squadre. Dobbiamo fare più punti possibili.